Ora Vennio e Tammazzo, arrestato dai carabinieri dopo le coltellate alla ex compagna. I carabinieri del nucleo radiomobile della Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in fraganza un pregiudicato catanese di 54 anni, responsabile di tentato omicidio, che era già agli arresti domiciliari. In tarda serata, intorno alle 22.45, al 112, è impervenuta la richiesta d'aiuto di una cinquantenne abitante del quartiere San Cristoforo, che terrorizzata asseriva di essere stata appena coltellata dal suo ex convivente. Quando le pattuglie sono arrivate hanno notato la presenza di un uomo che stava allontanandosi, trascinando due valigie. Alcuni militari hanno comunque bloccato l'uomo, mentre altri colleghi in soccorso della donna si sono recati al primo piano dell'abitazione. La donna, che ha tirato un sospiro di sollievo alla vista, ha mostrato loro i segni di due feriti da taglio alla spalla sinistra e al torace, aggiungendo che il responsabile era proprio l'uomo che avevano bloccato in strada. La malcapitata è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, dove i medici hanno refertato ferite per un prognosi di dieci giorni. La donna ha raccontato che il suo ex convivente, col quale aveva interrotto una relazione di circa otto mesi dopo una convivenza ultratrentennale, avrebbe sempre mantenuto un comportamento violento nei suoi confronti, generato da morbosa gelosia, motivi futili o prestuosi, che si sarebbero tradotti con cadenza quasi quotidiana in pugni, schiaffi e insulti. Casualmente si sono incrociati presso l'abitazione dei figli e alla richiesta della donna, circa i motivi della presenza lì, l'uomo avrebbe lanciato il telefono sul viso e poi avrebbe incominciato a rincorrerla. Altro violento episodio sarebbe avvenuto nello scorso aprile. L'uomo è stato associato alla casa circondariale catanese di Piazza Lanza. Domani in tutta la Sicilia sarà attestato Hit Alert, il sistema di allarme messo a punto del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che avverte in caso di gravi emergenze. Intorno alle 12, sugli smartphone di ciascuno di noi arriverà un messaggio accompagnato da un avviso sonoro, diverso da quelle delle altre notifiche, che reciterà questo messaggio di test. Bisognerà aprire il questionario e rispondere. Sarà importante rispondere al questionario perché consentiremo alla Protezione Civile di perfezionare il sistema. Questo è un messaggio Hit Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano attraverso la Protezione Civile sta attestando Hit Alert. Quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. Hit Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, NORAS, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha un nuovo presidio all'interno dei mercati agroalimentari di Catania. Nella struttura del MAS, incontrata a Giungetto, è stata inaugurata la sede affidata al reparto specializzato degli agenti forestali. Tutto alla presenza dell'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana, che ne sottolinea l'importanza. Sì, oggi un nuovo presidio di legalità, è un vero e proprio presidio di legalità all'interno del MAS. è un locale dedicato al NORAS, al nucleo operativo del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dedicato e specializzato sui controlli agroalimentari. È una cosa attesa da tanto tempo, alla luce anche delle attività che il NORAS, il Corpo Forestale della Regione, in questi anni ha svolto. Perché la cosa bella di tutto quello che è stato fatto è che si è passati da un'attività saltuaria, squisitamente repressiva, ad un'attività costante nel tempo, che ha iniziato a produrre i propri frutti a livello di educazione proprio del commerciante e educazione anche dell'acquirente a sua volta. Quindi sono contenta, sono orgogliosa, perché il NORAS è una delle eccellenze del Corpo Forestale sulla quale dobbiamo puntare e su cui dobbiamo scommettere. Il progetto europeo Social Green Deal vede tra i protagonisti la CGL di Siracusa col segretario Roberto Alosi, che sarà presente giovedì 5 luglio all'Università di Fiume, Croazia, alla presentazione del progetto di cui è capofila la CGL nazionale. E che vedrà al centro dei lavori un focus sui temi della transizione ecologica in Sicilia, con particolare attenzione ai processi di rigenerazione industriale del polo petrolchimico retuseo. Il workshop in programma punta l'attenzione alla straordinaria opportunità offerta dalla transizione ecologica, soprattutto nei territori esposti come quello del Siracusano. Un'importante e autorevole occasione, dice Alosi, gestire processi di transazione è un obiettivo fondamentale. L'economia del nostro territorio è esposta al continuo mutamento dei rapporti commerciali e politici del mondo dell'oil e del gas, così come alla necessità del rinnovo dei propri impianti industriali. È necessaria una classe dirigente all'altezza. Per lo studio europeo dei processi di transizione industriale del settore verso la decarbonizzazione è stato scelto il caso del polo petrolchimico di Priola Augusta, considerato sito di interesse nazionale, caratterizzato da aree contaminate molto estese, classificate come pericoloso per lo Stato italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari. Il nostro distretto industriale, oggetto di studio, conclude Alosi, rappresenta uno dei casi paradigmatici della transizione energetica, un sito industriale pivot che richiede cioè la trasformazione di alcuni punti chiavi della propria strategia industriale e del proprio prodotto per rispondere ad uno scenario in continuo cambiamento e che nel prossimo futuro è chiamato ad abbandonare le attività legate alla raffinazione del petrolio per intraprendere nuovi percorsi industriali. Per la prima volta il Comune di Siracusa disporrà di un'anagrafe scolastica, strumento necessario per la messa in atto delle politiche edonie in materia di istruzione e per la lotta al fenomeno della dispersione. A darne comunicazione il primo cittadino Francesco Italia e l'assessore all'istruzione e diritto allo studio Teresella Celesti. L'ufficio anagrafe del Comune è già al lavoro per stilare l'elenco di tutti i bambini che compiuti sei anni entrano nell'età dell'obbligo scolastico. Tale elenco a settembre sarà fornito ai dirigenti degli istituti comprensivi siracusani che così disporranno di uno strumento per verificare l'assolvimento del diritto dove era lo studio. Con l'anagrafe, spiegano il sindaco e l'assessore a Celesti, avremo contezza dell'alleva scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo grado riferita a Nati del 2017. Ciò consentirà di conoscere chi deve iscriversi e di intercettare non solo chi abbandona la scuola ma anche chi non viene mai iscritto dai genitori. Le istituzioni hanno il dovere di non lasciare bambini indietro e di fare in modo che tutti possano accedere all'istruzione. La Sicilia purtroppo è tra le prime regioni in fatto di abbandoni, fenomeno contro il quale i comuni sono chiamati ad adottare delle contromisure. Un festival estivo in mezzo a dei templi greci in Sicilia reso ancora più speciale dalle note e musiche di matrice jazz con artisti internazionali e italiani. Un'opera teatrale all'alba tra le colonne doriche di un'antica civiltà. Questo è lo splendido scenario di festival che si svolgerà dal 3 al 6 agosto. All'interno dello splendido parco archeologico della Valle e dei Templi nell'edizione di quest'anno si esibiranno artisti provenienti da tutto il mondo in grado di far ballare per tutte le notti tra sonorità jazz e contaminazioni contemporanee. Ogni concerto vive nell'incanto di luoghi immortali, il live al tramonto nel giardino della Colimbetra con vista sul Tempio dei Dinosauri, il main stage ai piedi del maestoso Tempio di Giunone e lo speciale evento teatrale al Tempio della Concordia. Festivalle crea una splendida cornice tra musica e il riconosciuto patrimonio unesco della Valle e dei Templi. Come loco, memori di Christina a tutti DH S Guarda A presto Valретi Fa Sempla di Giunone Scrivalle